Pasqua e Pasquetta, i bitontini hanno dato una bella risposta, ripeteremo l'esperimento quindi già ve lo anticipo per il 25, il 26 aprile e il primo maggio lasciando soltanto esclusivamente il servizio a domicilio. La situazione aggiornata è la seguente, 5 persone hanno ricevuto il risultato positivo al tampone ma sono rimasti a casa, una persona è ricoverata e stiamo seguendo la situazione da vicino perché è una persona anziana. Abbiamo perso una persona molto importante, Vincenzo ha dedicato gran parte della sua vita all'attività sportiva ma anche all'attività civile, lo ricorderemo con delle manifestazioni pubbliche, verrà il momento delle dediche di strutture alla sua persona, alla sua attività. Nel frattempo potevamo soltanto fare quello che abbiamo fatto, cioè comunicare il lutto cittadino per la sua perdita. Non mi fermo fino a che non vedo il dato zero sulla situazione dei ricoveri e spero anche sulla situazione dei positivi. I buoni spesa sono stati sospesi al termine della seconda scadenza prevista dal bando che ne prevedeva tre per, crediamo, insaurimento dei fondi. Per quanto riguarda gli aiuti sociali continueremo comunque, al di là della sospensione dei buoni, con le derrate alimentari anche acquistandole direttamente come comune, con il servizio risto a casa per le persone che non riescono neanche a cucinare e poi c'è anche la mensa sociale. La città metropolitana di Bari venerdì presenta un mega provvedimento in cui, grazie a un finanziamento che abbiamo vinto, sosterrà con una struttura tecnica un piano strategico anti-covid a supporto dei comuni. Anche per le persone disoccupate potrebbero aprirsi delle prospettive. Nelle prossime 48 ore verrà presentata un'app per sostenere il servizio a domicilio delle nostre attività ristorative. Faccio anche un appello ai proprietari dei mobiliari di Bitonto, è chiaro che tutti coloro che hanno dato in affitto alle attività commerciali, cercate di rinegoziare i termini per quanto possibile. Un invito ai nostri cittadini che hanno già delle agevolazioni o di fatto o formali ad essere consapevoli del momento che stiamo vivendo di fronte a tutto questo. Com'è possibile che cittadini che prendono redditi di cittadinanza superiori alle 800-900 euro debbano continuare ad alzare la voce e a giocare sulla pelle delle persone? La disinfestazione è stata fatta nel centro storico, la continueremo a fare nelle strade dove non è arrivata. Grazie a tutti.